Io parlo in questo momento a livello personale, ma parlo anche a livello dei miei colleghi e altre strutture per quanto riguarda il livello pesarese. E noi abbiamo aperto comunque il 25 maggio rispettando tutte quanto le regole, mettendo a norma la struttura e spendendo tanti soldi per igienizzare, per comprare prodotti e stiamo continuando a igienizzare ogni ora, ogni volta che una persona esce dalla struttura noi igienizziamo tutto, anche i clienti e i soci della nostra palestra, delle palestre comunque puliscono la struttura, puliscono le macchinari che utilizzano, noi sanifichiamo, ripeto, ogni ora, abbiamo tutti ingressi contingentati, quindi può entrare la metà della gente che poteva entrare prima, è tutto su prenotazione e abbiamo monitorati da un mese a questa parte, perché noi siamo obbligati a tenere monitorati per almeno 15 giorni gli ingressi, sia per orario di ingresso che per orario di uscita. Quindi noi stiamo facendo tutto quello che possiamo fare, non ci sono focolai da quando abbiamo aperto la struttura che si sono manifestati all'interno dei centri fitness, quindi sinceramente stiamo cadendo dal pero, ci lascia increduli, ci lascia increduli, oltre alla cattiva pubblicità che ci fanno, perché la gente poi ha paura, quando la palestra è un bene primario, fare attività fisica è un bene primario. E parliamoci chiaro, fare ginnastica da casa, una persona non è in grado di seguire il suo corpo, ha bisogno di un trainer. Noi stiamo facendo il possibile, se ci sono delle strutture che in Italia non sono state messe a norma, che chiudono loro e gli facciano le giuste multe che debbano fare, ma non a chi ha investito tutti questi mesi nel far ripartire la propria attività. Ecco, in questa settimana si presume arriveranno dei controlli, perché così è stato anticipato, ma non ci saranno interventi aggiuntivi oltre a quello che è già stato fatto? No, noi li aspettiamo con ansia, noi siamo tranquilli e siamo a posto, non faremo niente di più di quello che già non stiamo facendo. Chi è in regola non dovrebbe avere problemi, speriamo che siano tutti in regola e che questo terrorismo non pregiudichi poi il proseguimento dell'attività, perché sarebbe una cosa gravissima. Ci sono delle linee guida da seguire molto severe che devono essere applicate. Noi ci siamo mossi cercando di dare più sicurezza possibile all'interno dei nostri locali, mettendo cartelli, facendo seguire tutte quelle regole che stanno dicendo da mesi, gel per le mani, distanziamento alla mascherina. Abbiamo comprato una macchina per igienizzare tutto l'ambiente, spendendo tanti soldi, non solo iniziali, perché poi un liquido di un litro costa più di 100 euro, e quindi sono spese che poi vanno a gravare sul bilancio di un centro. Abbiamo contingentato tutte le palestre, quindi dentro ogni palestra ci sono un numero preciso delle persone che possono entrare, seguendo poi proprio quelle che sono le indicazioni del decreto. Negli spogliatoi facciamo la massima attenzione, anche lì abbiamo contingentato l'ingresso, più di così. Le entrate e le uscite, come potete vedere, sono tutte segnate. Noi cerchiamo di fare il massimo. Il vostro è un centro polivalente, ci sono tante attività che magari sono state fermate, lo sport dilettantistico amatoriale, situazioni che vi penalizzano. Assolutamente sì, ci penalizza, perché noi abbiamo anche il campo da palacanestro, che già settimana scorsa era stato penalizzato per il fatto che non potevano più giocare gli amatoriali. Le persone che fanno 10 persone, 10 amici, poi vanno a mangiare la pizza, dopo vengono a fare l'oretta di palacanestro e loro già non potevano più venire, potevano venire soltanto le persone tesserate. Quindi adesso però con questa linea qui bisogna vedere, capire cosa si può fare. Non è facile, adesso ci stiamo lavorando. Però anche lì sicuramente, questa mattina mi ha fatto un'allenatrice del karate, cosa devo fare, posso fare, non posso fare? Penso proprio di no e quindi saremo penalizzati anche in questo.